E' oggi una giornata importante perché inauguriamo finalmente, direi, la risonanza magnetica a Villanacri, però sono anche contenta perché questa è una risonanza altamente performante e questo rientra nella politica che la regione ha fatto in questi ultimi anni, che ci ha portato ad essere insieme all'Umbria la regione che ha più alta tecnologia in Italia. Ne abbiamo anche di più rispetto alla Lombardia o al Veneto, infatti noi abbiamo una alta tecnologia ogni 10.000 abitanti e mentre nel Veneto e nella Lombardia si superano uno ogni 20.000 abitanti. Questa è una cosa importante, questa è una macchina di ultima generazione che ha un'entrata del paziente particolarmente grande per cui sono possibili fare anche esami per i grandi obesi e questa era una cosa che mancava e quindi è un servizio in più che stiamo offrendo e poi perché la macchina è veramente molto performante e credo che migliorerà la qualità, anzi sono sicura che migliorerà la qualità della salute e ora dobbiamo far sì che questa macchina sia attiva il più lungo possibile e credo che tutto il personale in questo momento disponibile a Villanacri sia intenzionato a fare questo. Un passo avanti per una buona sanità. Grazie a tutti.